Buonasera, benvenuti a Conto alla Rovescia. Questa sera ci occuperemo di Covid, una pandemia che non ci sta abbandonando, anzi i numeri crescono ancora di più e bisogna prestare molta attenzione, ma parleremo anche degli effetti collaterali di questa guerra in Ucraina e naturalmente anche di politica, di quello che accadrà da qui alle prossime regionali. Lo faremo con un parterre di tutto rispetto. Il consigliere regionale Gianluca Cefaratti, buonasera, grazie per essere qui con noi. I telespettatori a casa. Il consigliere regionale Angelo Primiani, un politico esperto, più esperto di lui forse non ce ne sono qui in Molise. Angelo Camele è stato per ben sette volte eletto in consiglio provinciale di Sernia, trascorso una vita, ma è stato anche per cinque legislature, sindaco del suo comune, Bagnoli del Trino. Grazie anche a lei Camele, stiamo aspettando il consigliere regionale Andrea Di Lucente che ci raggiungerà a momenti. Allora Cefaratti, lo scorso 31 marzo è finito lo stato di emergenza, ma il Covid continua la sua corsa e spunta questa nuova variante che si sta diffondendo ormai ovunque. Comunque, secondo il mio punto di vista, vanno evitati inutili allarmismi, ma bisogna sempre mantenere la massima cautela. Si trova d'accordo? Assolutamente sì, non si può mollare la presa. Certamente l'interesse quasi di tutti nell'ultimo mese e mezzo è stato rivolto al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, ma non possiamo assolutamente dimenticare che noi abbiamo una guerra, ormai in corso da oltre due anni, e bisogna fare attenzione perché c'è una ripresa evidente, i dati statistici dicono che c'è su tutto il territorio nazionale, purtroppo anche nel nostro Molise, un numero di contagi che costantemente si mantiene alto, per cui non bisogna assolutamente mollare, bisogna fare attenzione, bisogna adottare tutte le cautele, al di là del fatto che dal primo di aprile il Governo ha deciso delle misure un po' più attenuate rispetto a quelle precedenti, però davvero poi il comportamento di ognuno di noi deve essere adeguato al momento e alla situazione. Non possiamo mollare, bisogna continuare a fare attenzione, probabilmente anche le temperature, costantemente rigide nell'ultimo scorcio di questo fine inverno, inizio primavera, hanno consentito probabilmente al virus di continuare a circolare, speriamo davvero che nei prossimi giorni il rialzo delle temperature possa in qualche maniera far sì che il Covid circoli meno, in attesa di un'estate che, così come abbiamo avuto esempio nelle ultime due state, c'è un rallentamento evidente della pandemia, speriamo che non ci sia una ripresa. Almeno le mascherine, secondo molti, dovrebbero rimanere obbligatorie ai primi anni. Tutto questo mentre l'Italia ha intrapreso la via del Libera Tutti con una roadmap di fine restrizioni che ci porterà a maggio a dire addio a quasi tutte le misure di controllo anti-Covid. Lei cosa ne pensa? Io penso che non bisogna abbassare la guardia. I dati, insomma, ci dicono che non è il momento di allentare la presa. Capisco che stanno venendo meno tanti obblighi, come quello della mascherina, come quello del Green Pass per accedere in determinati luoghi, ma questo non vuol dire libera tutti. Bisogna continuare, secondo me, a mantenere dei comportamenti attenti, anche se gli obblighi sono venuti meno. Per buon senso bisogna continuare ad indossare la mascherina, non solo all'interno ma, secondo me, anche all'esterno in luoghi affollati. Bisogna continuare a mantenere una certa attenzione, perché, insomma, i dati ci dicono che il virus è tutt'altro che sparito. vuoi anche le temperature rigide, sta circolando molto, le nuove varianti stanno circolando in maniera dilagante. I vaccini stanno via via scemando i loro effetti. È vero che andiamo incontro alla stagione calda, ma questo deve comunque non farci abbassare la guardia. Bisogna, almeno, fino all'estate, secondo me, mantenere comportamenti molto attenti. Poi vedremo, con l'arrivo della prossima stagione fredda, si parla già di un nuovo vaccino un po' più calibrato su queste nuove varianti, addirittura si parla dei vaccini da fare, come quello anti-influenzale, da fare con cadenza annuale. Vedremo, ma al momento io inviterei tutti a mantenere dei comportamenti attenti, al di là degli obblighi che sono venuti meno. Ne vale, insomma, della nostra salute e soprattutto della salute dei soggetti più deboli. Ecco, intanto, Camele, gli anziani sono stati i più penalizzati in questi due anni. Lei si è reso conto anche della difficoltà anche di incontrare una persona anziana, di discutere... Lei vive a Disegna, però so che è sempre molto legato a Bagnoli del Trigno, uno dei paesi dell'entroterra. Quindi, quando lei si è incontrato con le persone anziane di Bagnoli del Trigno, qual era il loro stato d'animo? Quali sono state le riflessioni? Che cosa vi siete detti, Camele? Nella prima ondata del virus Covid-19, Bagnoli è uscito fuori da quel circuito, non c'era nessun malato. Quello che mi preoccupa adesso è la Picron, questa seconda ondata, dove è entrata anche a Bagnoli del Trigno, che ha colpito, non tanto quelli che hanno la mia età, ma i bambini. Io sono molto preoccupato che i bambini ce ne stanno tanti a Bagnoli e sono loro che hanno creato qualche statisticamente dei numeri per quanto riguarda il comune di Bagnoli. Inizialmente, non solo come sindaco, ho attivato tutte le forze dell'ordine, tutti i cittadini, a stare molto e molto attenti e responsabilmente di ciò che facevamo. E di fatto ci è andata bene. Adesso, purtroppo, con questo Micron, questo nuovo virus, i ragazzi sono bambini, chiaramente. Sono un po' disabituati. La mia visita continua a scuola quasi ogni mattina e ieri mattina ci sono andata, mi hanno detto, ma che fine hai fatto? E ho detto, per non creare problema a voi bambini, voi dovete crescere sani, educati e bisogna riflettere su ogni movimento che fate nella vita. è venuto, ci è raggiunto anche il Consiglio regionale di Lucente, grazie per essere con noi questa sera. Allora, se alcuni paesi, però, come la Gran Bretagna di Lucente, fanno finta che tutto sia finita, allora diventa il paradiso delle varianti. Ecco, molta gente che sta arrivando per il periodo delle festività pasquali, di ritorno dalla Gran Bretagna, in questo periodo, ci dovrebbe essere una maggiore attenzione, anche negli scali aeroportuali, nelle stazioni ferroviarie, perché non tutte le nazioni adottano un criterio univoco, più logico, diciamo, per contenere questa pandemia. Diciamo che già in Europa le nazioni che fanno parte della comunità europea nella pandemia non hanno avuto gli stessi atteggiamenti o le stesse attenzioni. Uno dei punti fondamentali è che si è andato a toccare il cuore di una nazione che è l'economia, quindi ci sono delle nazioni che hanno avuto un approccio diverso, l'Italia ha avuto un approccio attento, ha avuto un approccio che andava a tutelare le persone anziane, quelle che nella prima ondata potevano avere più problemi. Ora, come diceva Angelo Camele, i più, con la variante Omicron e con le altre varianti, i più attaccati sono i bambini perché c'è una forma di aggressione verso i più piccoli e oggi come oggi continuiamo a avere dei numeri abbastanza alti perché ormai non c'è più quell'attenzione che c'era prima da parte di tutti quanti noi, non ce lo nascondiamo. prima eravamo anche ossessionati non solo dalla mascherina ma del lavare continuamente mani, di usare continuamente le precauzioni che servivano per non essere aggrediti dal virus. Oggi c'è un po' un liberi tutti perché la gente è stanca, la gente vuole tornare a vivere e perché la forma che sta in questi giorni girando di Covid forse è meno aggressiva e meno preoccupante rispetto all'inizio. Facciamo qualche passaggio anche su questa guerra in Ucraina che sta naturalmente smuovendo tante coscienze, immagini che mai avremmo immaginato di vedere. Lei si aspettava questa guerra, a Cefaratti? Assolutamente no, 50 giorni fa, parlandone anche in famiglia con moglie e figli, francamente, ritenevo che la cosa fosse lontanissima dal potersi avverare. Sono rimasto estremamente sorpreso quando poi c'è stato l'attacco da parte dei russi e oggi bisogna prendere atto che questa probabilmente, come dicono anche gli osservatori internazionali, diventerà una guerra lunghissima nel tempo perché gli interessi sottesi sono enormi e d'altra parte le grandi potenze europee e mondiali in qualche maniera ob torto collo fanno finta quasi di nulla. Questa è una sacrosanta verità perché probabilmente gli interessi sono contrapposti, gli interessi sono tanti e c'è anche il pericolo che magari incombente che ci possa essere un coinvolgimento più ampio che ovviamente nessuno vuole. Sta diventando davvero una battaglia casa per casa, soprattutto nell'est dell'Ucraina. Stiamo vedendo i primi effetti negativi non solo per l'Ucraina, ma anche noi, insomma, giornalmente assistiamo all'aumento di alcune materie prime, all'aumento di alcuni prodotti che anche l'Italia importa da quella parte dell'Europa. ancora secondo me non vediamo gli effetti reali perché insomma anche per quanto riguarda alcuni cereali in particolar modo comunque c'è un approvvigionamento tale da non soffrirne in questa fase e sicuramente l'Italia, l'Unione Europea in qualche maniera stanno cercando di contrastare attraverso nuove modalità di approvvigionamento di materie prime quella che potrebbe essere la crisi di cerealicola che potrebbe investirci. certamente siamo sono preoccupato perché davvero non si vede la luce in fondo al tunnel e credo che davvero ci dovrebbe essere da parte della comunità internazionale in qualche maniera una forza maggiore a interagire con le grandi potenze mondiali perché questo conflitto termina il più presto possibile. secondo te quindi queste sanzioni adottate finora non hanno prodotto non ce lo dobbiamo dire gli effetti che si speravano probabilmente c'è stato un calcolo errato da parte di chi riteneva che le sanzioni nei confronti della Russia avrebbero fatto sì avrebbero generato un ritiro dalla Russia invece mi pare che tutto ciò non sta accadendo anche la ripresa in termini economici del rublo è del tutto evidente per cui insomma bisogna pensare a qualcos'altro e non soltanto unicamente alle sanzioni come situazione di rimente rispetto a questa problematica molto più ampia e più grande. Finalmente è proprio il caso di dire così i paesi dell'Unione Europea a primi anni arriveranno a sanzionare gli idrocarburi russi cominciando dal carbone ma non era possibile farlo un po' prima? Ma allora premettiamo che Putin con questa guerra si è posto dal lato sbagliato della storia e fuori dal corso storico perché nessuno avrebbe mai immaginato che nel 2022 ci potesse essere una nuova guerra in Europa con le condizioni di stabilità che abbiamo vissuto negli ultimi decenni è chiaro che l'Europa si è fatta trovare un po' impreparata nei confronti anche perché era del tutto inaspettato questo conflitto si è fatta trovare impreparata perché come veniva detto giustamente prima con le sanzioni secondo me non si è raggiunti l'obiettivo che ci si era prefissati ovvero quello di favorire un rientro delle truppe in Russia e quindi un termine immediato della guerra stiamo vedendo che la guerra sta andando avanti leggevo poco fa un'agenzia che diceva che Mosca ha appena annunciato che di aver raggiunto gli obiettivi militari che si era prefissati quindi lasciano presagire ad una fine della guerra è un'agenzia non so fino a che punto può essere considerata attendibile però se così fosse insomma sarebbe di certo un dato favorevole auspicato da tutti quanti è chiaro che l'Europa deve aprire delle riflessioni serie noi non possiamo più dipendere energeticamente da altri paesi vanno rivisti alcuni paradigmi questo ce lo imponeva la pandemia prima questo conflitto oggi non possiamo più avere un'Europa così appiattita su alcune posizioni noi io sono cerco di fare un'analisi un po' più precisa posto che la Russia ha sbagliato l'Europa secondo me doveva porsi in una posizione non troppo subalterna a quella degli Stati Uniti perché abbiamo interessi divergenti rispetto agli Stati Uniti dovevamo assumere un ruolo un po' più super partes cercando di imporre alla Russia dei comportamenti più assennati costringendoli a sedersi ad un tavolo della diplomazia e magari coordinando questo processo democratico si è parlato nelle ultime settimane di affidare alla Cina il ruolo di coordinamento dei negoziati è un ruolo che la Cina ovviamente non ha un interesse diretto sul territorio a coordinare questi negoziati cosa che invece ha l'Europa bene io avrei immaginato un ruolo più attivo dell'Europa a favorire questo processo di pace e invece purtroppo ma questa è una critica che faccio all'intera Unione Europea avrei gradito un ruolo un po' più incisivo per quanto riguarda gli aspetti energetici è sicuramente da rivedere abbiamo degli stati membri che hanno caratteristiche diverse è chiaro che in questa situazione Italia e Germania sono le nazioni più esposte noi importiamo il 38% del gas russo è chiaro che la Francia ha un interesse leggermente diverso rispetto a quello italiano hanno 54 centrali nucleari che soddisfano la quasi totalità del fabbisogno energetico della Francia di certo sono meno esposti rispetto ad Italia e Germania però non si può continuare a ragionare come singoli stati bisogna avere un coordinamento europeo più incisivo da qui la richiesta di dotarsi di una difesa comune europea di una politica estera europea un po' più incisiva questo però non deve significare aumentare la spesa militare e questo ci tengo a ribadirlo in una fase come quella attuale l'Italia soprattutto non può permettersi di investire ulteriori risorse sugli armamenti a scapito di settori che da anni soffrono tagli di risorse su tutti quello della sanità un coordinamento europeo ci permetterebbe di essere più incisivi perché di fatto gli armamenti l'Europa li ha però abbiamo 27 eserciti tutti quanti scollegati tra loro è chiaro anche la posizione del Movimento 5 Stelle che sul 2% del PIL per quanto riguarda la dispesa per la difesa sono eccessive comunque è chiaro che è un concetto che è stato ribadito anche più volte dagli stati maggiori del Movimento 5 Stelle sì premesso che bisogna far fede agli impegni assunti a livello internazionale di fatto noi oggi abbiamo un impegno quello di portare la spesa pubblica al 2% in virtù di un impegno assunto a livello internazionale questo nessuno lo mette in dubbio il problema è che bisogna arrivarci con gradualità soprattutto adesso in un momento come quello attuale veniamo fuori da una pandemia stiamo vivendo una situazione economica catastrofica perché di fatto quotidianamente vediamo imprese che chiudono famiglie sull'astrico aumentare la spesa militare in questo momento mi sembra veramente uno schiaffo verso tutte quelle persone che soffrono è un momento difficile comunque ne parleremo tra poco allora Camere la visione di Putin dell'impero russo è una minaccia ormai chiara per tutta l'Europa cosa pensa anche di chi dice che l'Ucraina dovrebbe arrendersi per salvarsi ma vedi direttore io leggendo il suo libro bel libro vedendo quel filmato suo sulla guerra sul 10 settembre mi sono reso conto oggi che cosa è stata la guerra del 43 dal 10 settembre quando la sventagliata Venafro Isernia e continuando verso Foggia mio padre è rimasto sotto una bomba e bombardamento detto questo ti dico quando la odio la guerra però ecco questa conflittabilità tra due o tre nazioni che si vogliono a danno nostro barattare l'economia mondiale e non è manco giusto e non è giusto neppure che il nostro governo oggi si è impegnato con l'Europa a dare il suo supporto addirittura si parla attraverso la Samba speriamo di no anche le armi un contributo sostanzioso per non so per che cosa però ecco noi siamo disposti come cittadini semplici come amministratori a far fronte a quelle che sono quelle cose che io vedo e tutti quando noi vediamo la televisione quando vediamo quei bambini che corrono con quei borsoni per andare dove a me mi fanno piangere quando li vedo ma intanto come ha detto anche Primiani Mosca dice l'operazione potrebbe finire presto però proprio questa mattina c'è stata un'altra tragedia cioè una stazione di Kramatorsk con quasi 40 morti insomma non c'è una storia è molto pesante l'intervento che stanno facendo anche i russi io li condanno però ecco i primi giorni quando abbiamo visto queste disgrazi che sono capitati all'Ucraina abbiamo visto come dicevo prima tutta questa gente che fuggiva con i troll e quant'altro ci siamo attivati io vi ricordo ho fatto un documento dove metteva a disposizione gratuitamente per tutto l'anno per tutti i periodi da Bagnoli tutte le case ce ne stanno poche vuote non ho avuto risposta speriamo che loro sono in mezzo a tre personaggi importanti della regione ricevano questa distribuzione dei profughi dei bambini in particolar modo a Bagnoli abbiamo un edificio scolastico abbiamo delle strutture che possiamo ospitare ma c'è la piena disponibilità c'è la piena disponibilità ma anche gli appartamenti ce ne stanno adesso noi ci impegniamo anche a dare riscaldamento vivere e quant'altro per tutto il periodo che lo signore ci decide di impegnarci in questo senso Di Lucente probabilmente si avvicinano anche scelte drastite e anche più veloci di quanto si pensasse sulle forniture energetiche l'Italia sarà pronta o pagherà un prezzo alto ma l'Italia sicuramente pagherà un prezzo alto ma anche per politiche sbagliate negli ultimi 15 anni in Italia dobbiamo prendere delle decisioni delle decisioni importanti per poter essere autonomi rispetto a quella che è la crisi energetica che ci sarà siamo una delle poche nazioni in Europa a non avere centrali nucleari per scelte sbagliate o non sbagliate ma per delle scelte le altre grandi nazioni in Europa Germania Francia Spagna hanno centrali nucleari siamo gli unici a aver iniziato una politica energetica con parchi fotovoltaici con con dei parchi eolici poi arrivano le associazioni di turno le associazioni ambientaliste iniziamo a parlare di turismo e poi iniziamo a bloccare quelle che sono gli investimenti verso l'autonomia energetica che serve a una nazione quindi penso che una volta e per sempre in Italia bisogna fare un piano energetico nazionale bisogna mettere da parte quelle che sono le le criticità legate a a delle associazioni che vogliono bloccare la crescita energetica della nostra nazione quindi l'auspicio è che che ci sia un nuovo piano che venga incontro a quelle che sono le esigenze di una nazione ma le esigenze di un'economia che in questo momento inizia a soffrire lei teme adesso una crisi economica la crisi economica in Italia già c'era da un po' e adesso sarà accentuata ancora di più sarà accentuata perché le aziende iniziano a avere problemi rispetto agli aumenti che ci sono stati negli ultimi due tre mesi ma che non sono legati solo alla guerra gli aumenti che ci sono in questo momento sono legati a una crisi che viene da due anni sicuramente legata al covid con aumento di materie prime con ritardi di consegne che vanno a creare a creare un buco nella produzione nazionale in tutti i settori quindi oggi come oggi in Italia devono essere fatte delle scelte importanti ma delle scelte di sopravvivenza per le per le imprese italiane in tutti i settori a 360 gradi anche perché per dirla in breve ci sono delle persone che hanno ordinato un'auto da sei mesi fa stanno aspettando prima di un anno le auto non vengono consegnate non si sa quando saranno consegnate è un problema serio è di questa settimana la scelta di una casa automobilistica di iniziare a consegnare alcune auto senza alcune centraline per poi richiamare in officina la vettura quando inizieranno ad arrivare le centraline legate al mercato elettronico e questo è un altro problema della delocalizzazione che c'è stata delle produzioni dove in particolare le produzioni elettroniche in Italia non ce ne sono più in Europa pochissime tutte nel mercato asiatico ed oggi noi siamo alla mercè della Cina che se decide di bloccare la nostra economia la blocca con i ritardi legati a tutto il mercato elettronico alla Russia di Putin ce faratti l'Italia dà 35 miliardi l'anno per le forniture del gas all'Ucraina offriamo un miliardo all'anno gli aiuti militari per difendersi dalle bombe russe che i russi pagano anche con i nostri miliardi non le sembra una contraddizione finanziamo il nemico più di quanto facciamo con gli ucrani un rapporto quasi di 1 a 35 e forse oggi ci accorgiamo di questa situazione emblematica che lei sta rappresentando però fino a due mesi fa quando non era ipotizzabile il conflitto nessuno mai avrebbe parlato di queste cose qui magari i grandi economisti conoscevano questi numeri noi li apprendiamo adesso e ci stupiamo che c'è questa divare questa sproporzione a cui purtroppo anche i colleghi prima difficilmente oggi possiamo far fronte in maniera differente noi dipendiamo molto dal gas che la Russia ci dà quasi i quattro decimi del gas che arrivano in Italia arrivano dalla Russia oggi non c'è un'alternativa l'alternativa bisogna comprendere che non è facile costruirla in tempi brevi non abbiamo centrali nucleari non abbiamo materie fossili di cui approvvigionarci in tempi stretti per cui io la soluzione davvero difficilmente la vedo all'orizzonte per cui l'auspicio è innanzitutto che questo conflitto duri il meno possibile perché davvero sta mettendo vittime sta distruggendo un'economia non solo quella ucraina ma di tutta l'Europa in particolar modo ma credo davvero che se la cosa dovesse andare avanti noi subiremo un forte tracollo dal punto di vista economico perché alternative reali in tempi brevi sono francamente lungi dall'apparire all'orizzonte per cui davvero io sono molto molto preoccupato perché alternative non ce ne sono e se le alternative arriveranno ci vorrà del tempo ecco mi reggancio proprio a questa sua ultima riflessione perché le sanzioni alla Russia stanno suscitando molte discussioni per i loro costi per le economie occidentali e la loro efficacia sulla politica e anche l'economia della stessa Russia ma vale la pena di continuare in questo modo gli scettici dicono ci hanno portato solo guai ma non hanno fermato la guerra ma oggi mi parrebbe di poter rispondere che probabilmente lo avevo detto nel primo intervento le sanzioni non ci stanno portando a nessuna parte anzi ci privano ulteriormente secondo me di risorse disponibili in campo nazionale ricordiamo che comunque noi utilizzavamo come Italia si importiamo materie prime importiamo gas ma la Russia rappresentava nell'economia nazionale un grosso esportatore per una serie di prodotti del made in Italy che oggi non abbiamo più di fatto per cui noi da una parte abbiamo ancora la necessità di importare materie dalla Russia dall'altra parte ci siamo chiusi dei mercati per cui ovviamente l'economia ne sta soffrendo stagnerà e non so dove ci porterà questo tipo di processo la crisi la crisi energetica primi anni sta scolorendo l'utopia verde va rimodulato secondo lei il PNRR in che direzione andrebbe rinegoziato con meno pannelli solari e più nucleare tutte le fonti alternative a quelle tradizionali ai combustibili fossili vanno considerate non credo sia la guerra stia sbiadendo la necessità di una transizione ecologica anzi piuttosto la sta rafforzando quando io prima dicevo bisogna andare a rivedere dei paradigmi che ormai accompagnano la nostra società da anni mi riferisco a quello che diceva il consigliere dilucente sulla catena produttiva la globalizzazione ha sicuramente portato benessere la possibilità di poter acquistare qualunque bene attraverso internet anche al di là dell'altra parte del mondo però di contro oggi vediamo tutti i limiti forse è il caso quando dico che bisogna rivedere i paradigmi mi riferisco anche a riportare all'interno delle nazioni degli stati membri quei pezzi di produzione che oggi sono stati affidati all'estero tornando alla transizione ecologica io credo che oggi più che mai bisogna spingere anche lì è un cambio di paradigma se pensiamo che negli ultimi cento anni noi abbiamo concepito un sistema di approvvigionamento energetico talmente complesso perché se se ci riflettiamo attentamente noi stiamo andando a prendere il gas in una delle periferie del mondo lì lo 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 trasportiamo attraverso delle condotte dalla periferia del mondo alle abitazioni dei singoli cittadini ma forse non era più opportuno immaginare l'autoproduzione in ogni singola abitazione non è un processo semplice si tratta di cambiare proprio di rivedere l'intero paradigma oggi le tecnologie ci permettono e permettono alla società moderna e alle singole abitazioni di generare energia sufficiente al proprio consumo però c'è bisogno di tempo di anni e di risorse di investimenti io sono d'accordo purtroppo in Italia noi siamo condizionati da una sindrome che è la sindrome di NIMBY ovvero quella che dice fate tutti gli investimenti che volete ma non nel mio giardino fateli nel nel giardino di quello affianco a me ma non nel mio questo purtroppo ha condizionato delle scelte strategiche in questa nazione dal referendum sul nucleare effettuato sull'onda della catastrofe di Cerno forse questo avrà fatto capire che la politica del no non paga io sono molto realista da questo punto di vista per esempio io prima facevo riferimento alle 54 centrali nucleari che sono presenti in Francia se dovesse esserci una tragedia dovesse scoppiare una centrale nucleare in Francia non è che si ferma al confine italiano sulle Alpi perché dice ah no lì sono contro il nucleare quindi non entrano le radiazioni e oramai alcuni paesi sono andati avanti quindi forse delle scelte vanno riviste le energie alternative sono il futuro però bisogna stare attenti io sono d'accordo quando si dice i comitati non possono bloccare ma bisogna essere attenti e bisogna andare a disciplinare questo non vuol dire da domani apriamo agli insediamenti selvaggi in tutta Italia noi abbiamo una cosa che ancora riusciamo a mantenere il patrimonio ambientale e naturale il microclima italiano ci sta garantendo agricoltura ci sta garantendo la famosa dieta mediterranea è frutta del microclima andare a condizionare anche il nostro ambiente vuol dire rovinare definitivamente la nostra nazione non possiamo fermare il progresso ma discipliniamolo non avere insediamenti selvaggi in tutta la regione individuare una due tre aree e quelle aree destiniamole agli insediamenti produttivi di energie sostenibili ecco dall'alto della sua esperienza di vita camele non crede che tante famiglie sono ridotte ormai all'astrico stanno arrivando delle bollette a dir poco stratosferiche sia del gas che della luce per non parlare poi delle imprese perché le imprese alcune imprese leggevo proprio sui media stamattina hanno chiuso soprattutto in nord Italia imprese con centinaia e centinaia di dipendenti perché non ce la fanno più a reggere il costo così elevato di una bolletta che può arrivare anche a una grossa azienda a due trecentomila euro a bimestre quindi bisogna prestare molta attenzione nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere anche perché Camela forse lei lo sa ma molti di noi compreso me adesso sta chiedendo a persone così conoscenti ma voi quanto pagate di gas di bollette al mese mi viene detto pago trecento quattrocento cinquecento addirittura una ha detto a me è arrivata una bolletta a casa un appartamento di 150 quadri mille mille settecenti a lei è arrivato mille settecenti allora molti dicono ma guarda io ho la bolletta a costo fisso che ha costo variabile io ero proprio all'oscuro di qualsiasi di queste diciamo strategie per poter risparmiare ora bisogna anche pensare a ciò cioè a fare il giro dei vari delle varie le fondi alternative quando parlava quindi lei pensa a fondi alternative il consigliere Primiano non sbaglio io ero bambino veniva a scuola a Capobasso a Cerce Maggiore aveva individuato l'agip dei pozzi dove c'è il metale sotto le varie questioni le varie cose i vari divieti si è fermato quell'impianto di Cerce Maggiore sopra la montagna di Cerce Maggiore credo che Cefratta lo sa questo particolare si sono vietate altri interventi come diceva dilucendo Pocanze per quanto riguarda le paleoliche io sono stato sempre contrario e il resto contrario addirittura appena rientra il sindaco dopo la sospensione annullai un parco eolico fatto da multinazionale dicendo paleolico adesso se ne pente però no non me ne pente no non se ne pente non me ne pente perché io sono stato uno di quelli che quando si parla oggi dopo 30 anni di fondi alternative io ho fatto uno studio personale probabilmente perché nato nella zona lungo il fiume Trigno dove abbiamo ripristinato nonostante i vetri dei vari organismi che vietavano tutto la centrale del bagnolo del Trigno non so quanto megavattate di energia elettrica procura al punto tale io ho fatto una convenzione all'epoca dove il 10% della pubblica illuminazione dovevano risarcire l'oro e di fatto il 10% del consumo della pubblica illuminazione perché non grave solo sul cittadino ma gli amministrati gli enti locali quando corrente consumano con tutti questi impianti che ci hanno costretto ci hanno costretto ci sono le scuole struttura comunale le scuole è una cosa è una cosa allora hanno bloccato ma non gli ha detto ai non lavori la centrale sulla diga di Giauci che deve essere una riserva d'acqua per la zona di San Salvo c'è una centrale in programma che l'hanno bloccata appunto per queste motivazioni qua dovevamo prendere il gas o il metano da altre parti sono le fonte alternativi queste fonte alternativi lungo i fiumi perché non le le pristiniamo non le realizziamo secondo me è la cosa migliore questa energia più pulita e possiamo farcela perché mentre oggi assistiamo che magari il Po è senza acqua però gli invasi si possono realizzare in queste circostanze ci potrebbe dare un aiuto serio ripeto della pubblica illuminazione del mio comune ne troviamo un bel vantaggio è tanto su 70-80 mila euro all'anno è una bella cifra certo allora Camela intanto già si sta pensando al prossimo inverno le faccio questa domanda non tanto da politico ma quanto un imprenditore per il caro Bolletti il caro Carburanti potrebbe servire uno scostamento di bilancio a livello nazionale si parla anche di razionamenti e c'è il timore per le imprese di non poter riuscire ad andare avanti se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare ma non solo per le imprese come diceva Angelo prima anche per gli enti cioè comuni province regioni sicuramente ci sarà una riduzione della fascia oraria di accensione e del riscaldamento nel prossimo inverno se non si vanno a calmirare i prezzi sia dell'energia sia del gas e le famiglie andranno ad adattare sicuramente a discapito dei bimbi a discapito dei tanti anziani quelle che sono gli orari di accensione del riscaldamento in casa allora il governo deve sicuramente iniziare a programmare quelle che sono decisioni importanti da prendere facciamo anche la differenza qui della nostra piccola regione le aree interne le aree dell'Alto Molise sono completamente diverse come temperature da quello che succede sulla costa quindi andare a pensare degli incentivi per i cittadini delle zone italiane più fredde rispetto a quelle che sono le regioni dove l'incidenza del riscaldamento va a influire diversamente sul costo della gestione familiare il prossimo inverno sinceramente mi aspetto che ci saranno tanti tanti problemi da affrontare da parte dell'esecutivo nazionale ma ci saranno tanti e tanti problemi da affrontare da parte della politica a 360 gradi che va dai comuni alle province e alle regioni perché la crisi delle famiglie giorno dopo giorno sarà sempre più importante e sempre più forte cefaratti la confcommercio paventa che l'80% degli italiani quest'estate non andrà in vacanza quest'estate prevarrà la voglia di tornare a vivere oppure l'ombra dell'austerità ma io oltre a quello che diceva la confcommercio che ho letto anche io stamattina c'è stata una nota a parte del presidente dei Ance Molise che per quanto riguarda tutte le problematiche legate alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali all'aumento smisurato dei costi dei carburanti chiedeva praticamente a tutte le amministrazioni appaltanti di sospendere ogni procedura di gara perché effettivamente oggi rispondere a delle gare credo che sia impossibile per una qualsiasi impresa per cui io spererei davvero il contrario ma immagino che tante famiglie facciano difficoltà a pensare di poter programmare una vacanza per cui però noi abbiamo vissuto anche in questi ultimi due anni probabilmente i nostri borghi ne beneficeranno in termini di presenza non tutto il male a volte viene per nuocere per cui noi dovremo farci trovare pronti perché magari avremo delle opportunità uniche di cui abbiamo beneficiato anche negli ultimi due anni causa Covid adesso c'è non solo la questione legata al Covid ma c'è una questione di carattere economico perché magari tanti sceglieranno di rivitalizzare i nostri borghi e quindi davvero spero che le amministrazioni comunali le proloco le agenzie turistiche possano far trovare un territorio pronto ad accogliere io penso che ce ne saranno tanti di turisti che potranno godere in Molise sicuramente di prezzi più vantaggiosi e di altre prospettive che sicuramente fuori non saranno in grado di cogliere anche Confindustria ha giudicato insufficienti al momento le misure e le risposte del governo di fronte ai rincari energetici secondo lei ha ragione Confindustria poteva fare qualcosa in più il nostro governo io sono totalmente d'accordo e sono molto critico con questo governo nazionale con il primo ministro Draghi soprattutto secondo me si sta facendo ben poco rispetto a quello che al reale fa bisogno delle famiglie italiane mi riferisco soprattutto agli scostamenti di bilancio ad oggi vediamo solo l'ultimo decreto 20 miliardi per abbattere di 20 centesimi il costo dei carburanti prorogato al 2 di maggio se non ricordo male però al termine dopo il 2 di maggio avremo 40 miliardi di ulteriore debito e nulla che rimane sul piatto si sta perdendo tempo con la programmazione a lungo termine io credo che l'Italia da sola non può farcela non può vincere questa sfida per questo ritorno a quello che dicevo in premessa è l'Unione Europea che deve avere un sussulto d'orgoglio e andare a rivedere alcune posizioni noi abbiamo lanciato la richiesta dell'istituzione di un fondo europeo per l'energia perché se vogliamo se non vogliamo compromettere una ripresa di fatto già compromessa abbiamo parlato dei prezzi che stanno lievitando in maniera assurda più 13,5% dei costi legati all'agroalimentare quelli legati al settore dell'edilizia automotive aumenti indiscriminati ovunque se non vogliamo compromettere una ripresa difficile e che era stata avviata con i fondi del PNRR bisogna attivare e prevedere ulteriori fondi ma a livello europeo perché non può essere solo l'Italia a fronteggiare una sfida globale qui non si tratta di fare uno scostamento di bilancio a livello nazionale qui si tratta magari di andare a rivedere alcuni paletti a livello europeo per esempio gli euro bond sempre stati un tabù a livello europeo credo che oggi avviato questo discorso con il recovery fund oggi credo siano di assoluta necessità bisogna immettere liquidità nel sistema perché solo con quella liquidità si potrà magari andare a rivedere quei paradigmi di cui parlavamo prima Cameli ci sono molti comuni tantissimi comuni del Molise tra cui anche Bagnoli del Trinio che vivono di turismo di rientro soprattutto l'estate come diceva giustamente il consigliere Cefaratti speriamo che anche quest'anno i borghi tornino a vivere in modo spensierato con tanta gente che torna a trascorrere le vacanze nei nostri meravigliosi paesi e quello che si augura anche per la sua Bagnoli noi siamo due anni un po' penalizzati anche in questo senso perché ci onora appena la chiusura delle scuole che pian piano con 10-20 giorni al mese di agosto arriviamo a 7-8-10 mila persone è un'economia locale che si vede e si nota adesso si nota all'inverso che mentre prima il venerdì sabato e domenico venivano 50 tassisti da Roma facevano spese a Bagnoli e tornavano adesso non vengono più che è chiaro da Roma a Bagnoli i tassisti pure loro stanno attraversando un brutto momento anche perché motivi del covid tra zone rosse zone bianche zone gialle loro erano pure frenati a venire nel Molise e non solo nel Molise anche nei nostri paesi e paesi vicini per quanto riguarda la gita fuori porta si chiamava una volta a Roma oggi non ci si può più permettere questo per motivi di salute come abbiamo parlato di covid e motivi finanziari non è possibile mentre noi a Bagnoli in questo momento ne subiamo tanto perché i pochi sono dieci commercianti all'ingrosso due o tre supermercati ne stanno subendo perché effettivamente se la gente non circola è un problema serio che le cinque macererie che ci stanno i quattro o cinque frantoi i quattro o cinque mattatoi i ristoranti la Domus è lo stesso è un momento particolare qui porta gente non si sposta per niente anzi ti dirò di più che non vengono pur per non andare a accendere il riscaldamento a casa perché è un consumo perché una casa fredda sono da là per un mese è un problema serio e allora i comuni che possono fare potrebbero aiutare però da dieci anni a questa parte io l'ho vissuto come sindaco e il governo ci ha tolto tutti quei finanziamenti che si spettavano di diritto però intanto noi facciamo solo gli esattori e trasferiamo al governo l'ici e quant'altro cioè se avvenisse l'autonomia comunale secondo me probabilmente è solo un caso particolare io non sono più soddisfatto che se il comune di Bagnolo di Tignia cittadina si ingassa 500 mila euro di tari e quanti euro lasciamo che la spenda come vuole come decida invece la trattina il 50% del governo perché Bagnolo è un comune virtuoso ma questa virtuosità da che cosa è difesa da risparmi di lucente che Molise sarà dopo la pandemia e la guerra secondo lei ma un Molise che deve affrontare una crisi nazionale però un Molise che può avere delle opportunità da qualche mese siamo di nuovo obiettivo uno quindi dobbiamo essere bravi a a focalizzare la nostra attenzione su quelle che possono essere le opportunità che grandi gruppi nazionali grandi aziende nazionali possono vedere nella nostra regione non dimentichiamo che il Molise è al centro dell'Italia quindi può essere appetibile per per grandi insediamenti industriali dobbiamo cercare di coinvolgere così come è stato fatto su e dobbiamo cercare di lavorare un po' tutti quanti insieme così come è stato fatto sulla Gigafactory di Termoli dobbiamo lavorare sicuramente sulle infrastrutture andando a colmare quel divario che c'è e quella problematica che abbiamo avuto negli ultimi 20-30 anni perché il nostro sbocco sulle autostrade sulla zona di Termoli vediamo che è una zona che è cresciuta negli ultimi 20-30 anni perché è in una posizione favorevole su una direttrice importante che è l'Adriatica le altre zone invece della nostra regione le altre zone industriali sono in sofferenza perché la problematica legata ai trasporti vuoi quelli su gomma vuoi quelli sul treno se pensiamo se pensiamo che solo negli ultimi due anni si è avuta l'elettrificazione della tratta tra Isernia e Venafro ci rendiamo conto il divario che c'è tra la nostra regione e le altre regioni e questo ha fatto sì che molte aziende che c'erano hanno chiuso molte aziende che c'erano sono scappate adesso dobbiamo lavorare tutti quanti insieme per far sì che le zone industriali della nostra regione inizino di nuovo ad essere appetibili per quegli imprenditori che qui possono trovare sicuramente una regione a dimensione di imprenditore perché il contatto con i vari uffici regionali o anche con la politica locale è imminente sicuramente a differenza di prima abbiamo meno mano d'opera perché i nostri ragazzi stanno andando via per mancanza di opportunità allora dobbiamo far sì che queste opportunità le dobbiamo alimentare le dobbiamo far crescere bene ora chiedo alla regia di mandare in onda alcuni break pubblicitari poi nella seconda parte di conto alla rovescia parleremo esclusivamente di politica allora tra poco dopo la pubblicità riprendiamo riprendiamo conto alla rovescia come anticipato in questa seconda parte parleremo soprattutto di politica con i nostri graditi ospiti che sono il consigliere Cefaratti il consigliere Primiani Angelo Camele e il consigliere Dilucente allora questi quattro anni che giudizio in questi quattro anni che giudizio si dà a lei Cefaratti poteva essere fatto qualcosa in più e non è stato fatto qualche rimpianto ma c'è sicuramente da parte mia un giudizio complessivo un giudizio personale giudizio complessivo della coalizione di quello che siamo riusciti a produrre e io ritengo che si poteva produrre l'ho sempre detto e non lo nego nemmeno stasera si poteva produrre di più e meglio giudizio personale io ho messo a frutto in questi quattro anni quella che era il mio bagaglio esperienziale di amministratore locale oggi davvero mi sento più pronto di quanto nel 2018 lo fossi perché chiaramente ho imparato e ho conosciuto davvero in questi quattro anni con tanto impegno anche quella che è la macchina burocratica della regione con i tanti problemi io credo che nessuno di noi si sarebbe mai immaginato quando ci si è candidati che dovevamo affrontare due anni di pandemia adesso l'ultimo bimestre la guerra tra la Russia e l'Ucraina però dico che c'è tanto da fare in questa regione e bisogna essere consapevoli però di quelli che sono i limiti di questa regione oggi si dibatte tanto di Molisannio e tanti si sono anche arrabbiati rispetto a questa ipotesi io non so se è l'ipotesi giusta voglio chiarirlo però si è aperto un dibattito che è relativo alla questione numerica del Molise è un dibattito che secondo me va affrontato al di là delle posizioni personali o delle prospettive che ognuno può avere rispetto a un ampliamento dei confini regionali però dobbiamo iniziare ad avere chiaro qual è l'orizzonte i numeri in questo momento ci stanno penalizzando io mercoledì in consiglio avevo presentato un'interrogazione alla quale ha risposto il presidente Toma sul punto nascite di Termoli sappiamo tutti che il decreto Balduzzi fisserebbe in 500 unità il numero minimo di nascite in un punto nascite per poter rimanere aperto e né Termoli né i segni rispondono a questo Isernia credo che risponda Isernia credo che risponda Campobasso risponda Termoli c'è un problema enorme perché sono poco più di 300 i parti che mediamente ci sono nel corso dell'anno e io ho approfondito un po' lo studio insomma che deve essere secondo me fatto doveva essere fatto prima per capire quali sono i numeri sono andato proprio nei giorni scrossi grazie alla preziosa collaborazione dei miei collaboratori a verificare i dati delle nascite nell'ultimo quinquennio nel distretto di Termoli superiamo di poco le 500 unità 560 unità cioè ci sono 560 bambini tra l'altro il dato ultimo è del 2020 nemmeno nel 2021 quindi significherebbe che in linea teorica abbiamo i numeri per far sopravvivere un il punto nascita di Termoli se però ci fosse una condivisione da parte dei cittadini che deve esserci questo patto tra la politica e i cittadini perché poi si imputano delle problematiche o le cause di tutto quello che succede alla politica a volte no dobbiamo essere chiari ci vorrebbe un patto di non belligeranza tra gli amministratori e i cittadini e far capire che si è un po' padroni delle situazioni che verranno se i cittadini se le mamme preferiscono andare a partorire in altri lidi ebbè evidentemente la politica può poco soprattutto quando si fanno delle scelte è chiaro che noi in terma sanitario abbiamo opzioni e siamo assolutamente liberi di scegliere dove andarci a fare operare dove far nascere i nostri figli dove non andare però se i numeri sono limitati e poi le conseguenze sono quelle per cui a volte alla politica viene imputata una colpa che non è solamente sua dovremmo essere tutti consci come cittadini che le scelte che effettuiamo come liberi cittadini poi influenzano le scelte di altri per cui dovremmo in qualche maniera comprendere dovremmo essere più attenti ma sono convinto che questo Molise può farcela se avremmo la capacità superiore a quella dimostrata negli ultimi anni di un dialogo aperto nel tempo e nello spazio con i cittadini primi anni quattro anni fa avete giocato ad armi pari con il centrodestra anzi addirittura Greco veniva indicato dai sondaggi come super vincente poi all'improvviso Tom ha vinto con la coalizione di centrodestra però tutto sommato il Movimento 5 ha eletto sei consiglieri regionali in questi quattro anni voi sei consiglieri regionali avete prodotto un'opposizione che a tratti sembrava un po' troppo leggera a tratti un po' troppo ossessiva una via di mezzo non c'è stata come giudica la vostra opposizione? ma innanzitutto parlare di ultime elezioni di una competizione ad armi pari mi fa sorridere eravamo allora tutti anche le pietre votavano 5 stelle poi man mano il vostro purtroppo devo dirlo la vostra simpatia nei confronti degli elettori italiani è scesa proprio mi fa sorridere perché parlare di armi pari 20 contro 200 candidati era una lotta a livello di sondaggi però oggettivamente parlavamo di 20 candidati del Movimento 5 Stelle contro un esercito di 200 candidati dall'altra parte i numeri alla fine hanno dato ragione ai calcoli matematici fatti a tavolino evidentemente oggi paghiamo lo scotto di quelle scelte di quelle aggregazioni fatte solo con lo scopo di vincere le elezioni io sono molto critico su questi 4 anni di governo secondo me il Molise ha perso un ulteriore treno per lo sviluppo non lo dice Angelo Primiani non lo dice il Movimento 5 Stelle i numeri parlano chiaro questa regione nel giro di 20-30 anni è destinata a scomparire se non si apre una riflessione seria per garantire la sopravvivenza di questa terra noi non avremo più modo di esistere io sono d'accordo quando si parla meno male finalmente sono almeno tre anni che io provo a sollevare il dibattito sulla revisione dell'autonomia regionale farlo anche qui però sono critico perché farlo ad un anno dalle elezioni mi fa capire che non c'è la volontà di intervenire realmente su un tema dall'alto valore dall'alto spessore ma si vuole cercare semplicemente la butad elettorale per la prossima competizione io dico che invece bisogna andare aprire una riflessione seria coinvolgendo la politica tutta il Molise così com'è non è più sostenibile si parlava del decreto Balduzzi si parlava delle risorse che vengono sempre più assegnate e ripartite in base a criteri esclusivamente numerici sulla sanità oltre ai criteri numerici si innesta anche un altro discorso che è quello della qualità e della sicurezza degli interventi sanitari perché io faccio sempre questo esempio questo esempio il cittadino voi cittadini preferireste essere operati da un chirurgo che fa un'operazione la prima che mi viene in me l'appendicite che fa un'appendicite al giorno o da uno che fa quella stessa operazione dieci volte al giorno migliorando la manualità abbattendo notevolmente il margine di errore è chiaro che ci sarebbero molte più tutele con numeri maggiori quindi io sono d'accordo che forse è giunto il momento di far aprirla questa riflessione non sono d'accordo sul metodo secondo me bisogna aprire un dibattito che coinvolga anche che preveda anche la modifica della Costituzione si è parlato di macroregioni il Consiglio regionale ha dibattuto su questo si è espresso all'unanimità verso quella direzione poi leggiamo invece le uscite elettorali del Presidente Toma che va in senso opposto io non sono contro alla riflessione sull'apertura al Sagno al Beneventano ma non è questo il modo di operare venendo alla prospettiva è forse questo l'ultimo treno noi abbiamo per i prossimi anni una marea di risorse PNRR fondi strutturali europei fondi nazionali mi sono preso la briga di farmi qualche calcolo 300 milioni dai fondi strutturali 300 milioni circa dai fondi del PNRR 400 e dispari milioni di euro dai fondi di sviluppo e coesione parliamo per i prossimi almeno per i prossimi sette anni di circa un miliardo di euro di risorse che arriveranno in questa regione perdere questo treno vuol dire chiudere definitivamente i battenti bisogna però invertire la rotta bisogna introdurre e perorare un cambiamento drastico non solo nella politica ma anche negli atteggiamenti della pubblica di amministrazione ne parleremo tra poco perché vorrei capire un po' come vi muoverete in prossimità delle prossime regionali era solo per dire che insomma se perdiamo questo treno veramente è meglio giudere sia tranquillo perché abbiamo tante cose da dirci da dire e far capire anche ai nostri telespettatori Camere dall'alto della sua esperienza da osservatore esterno che voto dà di questi quattro anni del consiglio regionale si è fatta un'idea lo dirò dopo devo darvi una risposta concludere un ragionamento che faceva il consigliere c'è faranti si parlava del punto di nascita dei termoli ognuno di noi che la mattina legge la stampa per tante cosette siamo aggiornati io dico se Isernia mantenesse quella percentuale che il mio comune dà di nascita stamattina partendo mi hanno detto sono 96 sono tutti femminucci che nascono sono nati 5-6 sono nati l'anno scorso cioè se facciamo questo ma non perché non mettono il cappello sul letto ecco dicevano i vecchi mettete il cappello sul letto per fare i maschi si sono creati posti di lavoro dove la gioventù produce produce se vi dico a mio onore e piacere che c'ho tutto dall'infanzia all'asilo al nido e tutte le scuole prima e seconda sono tutte complete io ho un nido aperto 5 mesi fa ultramoderno ultramoderno dove ci stanno 11 bambini dentro piccolini come una legge prevede cioè se ogni comune ogni amministratore c'è parato sentitemi bene si occupasse di questi problemi bene di una località probabilmente in queste difficoltà non ci si troverebbe io lo dico per quanto riguarda il mio operato quando vinse i diasti io mi ricordo fu invitato all'insediamento quando vinse si sono insediati i consiglieri regionali dal presidente Toma al quale tutti gli fanno guerra ma io dico il torto non è solo suo e così è successo con Frattura cioè intorno si rimava sempre contro per tanti motivi e l'abbiamo assistito Primiano ha sfiorato l'argomento però la realtà la leggiamo la seguiamo anche se non siamo presenti come non sono presenti i consiglieri regionali comprese Primiano non lo dico a Primiano per non dirle a quelli di parte siete state mai a Bagnoli in questi 4-5 anni da quale parte si viene a Bagnoli allora il territorio l'avete abbandonato voi non come qualcuno scrive dobbiamo riconquistare il territorio allora noi ci siamo adoperati da solo allora la proposta che feci all'insediamento Frattura ha fallito in tre punti SSS SS e le tre sigle che sono sanità e ancora il povero Tomo con loro che è un bersaglio della maggioranza non solo quelli dell'opposizione sulla sanità siamo rimasti così una SS è fallita la crocetta le strade sono rimaste impraticabili se pensiamo come diceva l'altro Molise il consigliere di Lucena io cammino tutti i giorni ora sono più tempo lì perché cammino un po' tutto l'alto Molise non solo vengo a Campobasso a Isera a Termo cammino che devo fare devo passare il tempo oppure se costa la benzina mi interessa poco però ecco da Pescolangiano fino a Pietrabbondante Agnone è una autostrada noi invece per andare a Bagnolo da Campobasso o da Isera impieghiamo un'ora perché tra l'altro voi andate da Frosolone da Frosolone fino a la Molisina sembra un oceano andare da Bagnoli alla Trignina poi rimanga del collocamento con la Trignina se tu sei d'accordo sulla Trignina ci stanno 4-5 strappi franosi che io gli noto che scrivo a Prefetta alla Regione alla Provincia niente stanno ancora lì sono 5 anni allora se voi camminereste un po' cioè perché se quella frana continua chiedo scusa se quella frana che conosco molto bene dovesse peggiorare il paese rimarrebbe isolato insomma eh certamente che rimane isolato perché Salcito è chiuso Civitanova dove c'è il pulmo che viene tutte le mattine a Isernia e porta anche i maggiorenni alla scuola Isernia questo è stato l'altro errore forte che tutti dopo la scuola dell'obbligo si sono trasferiti tutte nelle grandi città però c'è di fatto una cosa che questa frana che bloccherebbe una strada di accesso alla regione e trasporta tutti i giorni si blocca perché sono 5 anni sta là se volete ce l'ho sul cellulare le faccio vedere è inutile che il presidente della provincia mi dice la regione non mi dà i soldi e l'ultima S qual è? l'ultima S è il sociale io mi auguravo che tu mi accennassi che c'era pure l'assessore sociale oggi è il compleanno oggi è il compleanno perciò non è venuta sta resteggiando però però affrontavo l'argomento in una maniera seria perché il sociale e l'assessore giustificata con più gli anni non sappiamo gli anni gli faccio il burglia augurcio mancherebbe e rispetto alle istituzioni anche se sono opposta alle idee di primi anni rispetto che sono giovani rispetto alle idee e così rispetto pure l'assessore che è assente per motivi magari più importanti per il sociale noi abbiamo vissuto i segni hanno vissuto io ho seguito puntualmente il problema dell'afasef il giorno dell'afasef questi bambini che stavano là che hanno bisogno di Dio e tu lo sai stanno sbattuti alla casa di riposo dove stanno gli anziani se ne è mai occupata la regione o lo dico l'assessore al sociale qualche altro bambino non solo del comune del bagnolo stanno in queste non nel centro di recupero queste case di recupero dove il comune 40-50 mila euro all'anno perché la regione non ti risponde perché i due assistenti sociali fanno una relazione una regione decisa sono spese che i comuni certo e allora dopo tutto questo dopo le 3S che voto dai politici regionali lei quando andavo a scuola prendevo sempre bei voti bei voti erano personali però non ne ho mai dati non ne ho mai dati perché se no diceva il professore Fiocca di matematica chi lo conosce è come no è un grande è un grande camelo facevamo la terza mela zero 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 meno zero non è dopo non è dopo va bene allora Dilucente veniamo a noi allora questi 4 anni si aspettava qualcosa in più sicuramente c'è da fare una riflessione ampia sicuramente potevamo fare qualcosa in più abbiamo avuto un inizio dove ognuno di noi all'interno del Consiglio deve fare mea culpa sia maggioranza sia opposizione noi di maggioranza dall'inizio abbiamo trovato le 3S abbiamo trovato tanta litigiosità tra di noi abbiamo trovato dei partiti che hanno fatto pressioni e ingerenze sulle scelte a volte del del presidente abbiamo trovato un'opposizione che è giusto che facesse opposizione però come hai detto tu a volte c'è stata un'opposizione molto aggressiva un'opposizione non costruttiva si è cercato spesso lo scontro quando a volte su alcuni argomenti forse era meglio avere un dialogo un po' più aperto un po' più trasparente da entrambi le parti sia dalla parte sia dalla parte della maggioranza che da parte delle opposizioni invece c'è stato uno scontro continuo spesso in aula dove però si è assistito anche a volte dei silenzi da parte di qualcuno che che doveva forse fare un po' più squadra all'interno del nostro gruppo perché spesso e volentieri su alcuni argomenti si è lasciato un po' il presidente da solo senza la protezione di chi gli era intorno tutti i giorni allora veniamo ora a quello che potrà accadere da qui ad un anno cefaratti cominciamo dal centro-destra poi naturalmente chiederò a primi anni un po' il loro rapporto anche con il partito democratico nel centro-destra si sta cercando di capire uno da grande che cosa vorrà fare perché sono i partiti tradizionali che sono rappresentati da Forza Italia da Fratelli d'Italia e dalla Lega che correranno naturalmente da soli come lista di partito anche se dovranno tenere in considerazione che questa volta rispetto a quattro anni fa non c'è più la surroga quindi bisognerà correre i veri eletti solamente chi avrà preso più voti ma intanto si parla anche di un raggruppamento di centro lei dove si identifica di tutta questa diciamo di questo parterre ma io sono stato eletto in una lista civica che fa rivento sicuramente a un'area moderata non sono stato eletto e mi sono candidato volutamente non in una lista partitica lo diceva di lucente io confermo che probabilmente i partiti hanno dimostrato quantomeno i partiti del centrodestra degli oggettivi limiti e se oggi la situazione in consiglio regionale è quella che è io credo che bisognerebbe riconoscere e bisognerebbe che alcuni partiti lo facessero anche in tempi rapidi che l'accapigliarsi anche interno faccio riferimento in particolar modo alla Lega ma anche a Fratelli d'Italia ha generato una confusione e anche uno stato di stallo della situazione politica all'interno del centrodestra quando qualcuno fa riferimento al centro come una forza di cui bisogna avere contezza secondo me è giusto insomma io non nego che il centro ha rappresentato sempre un interesse sia per la sinistra per costituire il centro-sinistra e per la destra però a mio giudizio deve essere chiara una questione l'attuale legge elettorale non solo in Molise ma che contraddistingue tutte le regioni assegna un potere enorme nelle mani del presidente della regione e quando abbiamo a che fare con un leader che in qualche maniera non accetta il dialogo e si impone troppo probabilmente poi andiamo incontro a delle defaianze e degli errori io credo che il cittadino farebbe bene per la prossima tornata elettorale a verificare quali sono le caratteristiche del leader e poi votare tranquillamente perché ricordiamo che dalla scorsa elezione non è possibile incrociare il voto cioè fino alle elezioni del 2013 era possibile votare per un candidato presidente e per un candidato di altro schieramento dal 2018 non è possibile fare il cosiddetto voto incrociato per cui io la riflessione che farò e che spererei che facessero tutti i partiti nella individuazione davvero di un candidato presidente che possa avere un dialogo costante innanzitutto con gli eletti con il territorio perché ha ragione Angelo Camele quando dice che probabilmente io almeno nelle mie parti del territorio più vicine credo e spero di essere stato presente nella giusta misura perché a volte si perde il contatto con il territorio si perde il contatto con gli amministratori ma soprattutto questo contatto con gli amministratori deve essere serio leale pacato e bisogna riconoscere quel che si può fare e quel che non si riesce a fare questa mi sembra sia una tirata d'orecchia a Toma per quando ma io la tirata d'orecchia gliela faccio tutti i giorni al presidente Toma a cui ho detto più volte insomma che qualche volta secondo me più di qualche volta voglio dire lui si è chiuso rispetto ad un confronto leale con i consiglieri regionali probabilmente lo dico anche gli assessori avrebbero in qualche maniera dovuto mantenere un collegamento più ampio con il consiglio regionale anche i sottosegretari che si sono alternati per cui oggi ci sono con tutta evidenza delle difficoltà per cui poi le scelte che ognuno maturerà saranno scelte che saranno il frutto dei precedenti anni Primiani il Movimento 5 Stelle da grande che cosa vorrà fare l'accordo col PD oppure noto che ognuno va per la sua strada perché un idillio attualmente ancora non c'è ho avuto la scorsa settimana con i nostri studi sia Greco che Facciolla si sono diciamo guardati un po' con se non incagnesco ma insomma ognuno voleva dire la sua il diritto di primogenitura ognuno voleva averlo insomma che cosa vuole fare il Movimento da grande il Movimento vuole il Movimento in questi anni è cresciuto è maturato lei prima diceva come si è contraddisti come si è caratterizzata la vostra opposizione in Consiglio regionale noi abbiamo non abbiamo fatto sconti a nessuno lo dicevano i colleghi prima di me noi su alcuni temi siamo stati duri fermi però accanto a quella protesta e denuncia abbiamo affiancato una proposta devo purtroppo rilevare che su alcune proposte condivisibili non abbiamo trovato dialogo non abbiamo trovato alcuna apertura quindi poi è chiaro che se non c'è alcuna apertura l'opposizione torna a fare il ruolo duro e puro che gli è stato assegnato dagli elettori il Movimento però ha affiancato in questi anni alla denuncia la proposta noi soprattutto negli ultimi anni abbiamo prodotto atti che rappresentano la falsariga di un programma di governo noi abbiamo l'ambizione di volerla governare questa regione mettendo al primo posto una questione il ricambio generazionale bisogna mettere nelle mani dei giovani il loro futuro giovani che oggi stanno andando via domani dovranno avere l'opportunità di poter entrare nella stanza dei bottoni e governare determinati processi giovani che purtroppo oggi la politica è sempre tenuto fuori da questi processi venendo alla questione della coalizione noi abbiamo avviato un confronto con tutta l'area progressista è iniziato è un confronto che è stato proficuo nei primi nei primi incontri è chiaro che noi abbiamo posto una condizione sul tavolo subito noi non vogliamo alleanze meramente elettorali noi non vogliamo fare una aggregazione di più soggetti accomunati solo dallo scopo di vincere le elezioni e poi litigare il giorno dopo è quello che è accaduto a Frattura prima e a Toma dopo parlavamo dei 200 candidati e i colleghi prima dicevano partiti che molte volte hanno avuto atteggiamenti ambigui nei confronti del loro presidente noi non vogliamo una coalizione messa insieme solo per vincere le elezioni noi vogliamo una coalizione fatta di forze che la vedono allo stesso modo che vogliono realmente essere incisive e provare a cambiare le cose quindi non abbiamo bisogno di mettere insieme gente per vincere e poi litigare il giorno dopo noi dobbiamo governare ed incidere per fare questo dobbiamo essere dialoganti sicuramente abbiamo smussato molti nostri angoli caratteriali diciamo così stessa cosa pretendiamo dalle altre forze in questa fase mi sembra che c'è la volontà da parte di tutti di avviare questo discorso di confronto è chiaro che noi intendiamo giocare un ruolo centrale nella coalizione nella nascente coalizione vogliamo giocare un ruolo da protagonisti non vogliamo essere subalterni a nessuno credo che questo convenga anche agli alleati e in primo luogo al PD il PD deve cedere parte del proprio potere diciamo così in favore di questo fine un po' più ampio quindi le stai chiedendo di cedere anche la leadership no non parlo di leadership davvero non faccio alcun riferimento in questa fase a posizioni interpreti io credo che se vogliamo realmente provare a cambiare le cose la prima cosa da fare è mettere insieme degli interlocutori che la vedono allo stesso modo la seconda cosa definire un programma ma non un programma fatto di cose di desiderata irrealizzabili noi non dobbiamo fare nient'altro che riprendere gli atti che abbiamo prodotto in cinque anni di opposizione e da lì sviluppare una base programmatica successivamente definito questo perimetro possiamo sederci intorno ad un tavolo e capire gli interpreti in grado di garantire quel programma è prematuro parlare di candidature di presidente siamo alle fasi preliminari siamo alle fasi preliminari però dopo l'estate quindi il termometro salirà ma noi abbiamo già iniziato perché poi le aspirazioni da parte del PD ci sono perché diciamo che quattro anni fa era una posizione diciamo che so combente rispetto al Movimento 5 Stelle loro dicono noi abbiamo ottenuto in questi quattro anni dei risultati diciamo superiori a quelli del Movimento 5 Stelle per cui la leadership spetta a noi anche se c'è diciamo fra Facciolla che diciamo è il candidato più autorevole ma c'è anche la Fanelli che aspira a diventare candidata alla presidenza della regione poi se fra i due litiganti c'è il terzo che gode viene detto da Letta allora perché si parla anche di questa Cerroni che viene portata molto dal leader Letta un agnonese che lavora proprio a stretto contatto con Letta direttore ci tengo a sgombrare subito il campo al di là di quelle che possono essere dichiarazioni pubbliche e magari interpretazioni volte a minare questo percorso devo dire e questo emerge dai tavoli che abbiamo avviato in questi giorni c'è la volontà di costruire in questa fase nessuno né noi Movimento 5 Stelle tantomeno il PD sta ponendo delle precondizioni sulle persone io dubito anche che le segreterie nazionali interverranno su questa sulle decisioni sicuro tranquillo io ho parlato recentemente con il presidente Conte Conte ci ha dato carta bianca nella gestione delle trattative a livello locale c'è l'interesse a creare una proposta politica alternativa ne prendono atto e ne prendono atto tutti i molisani il ragazzo intelligente qua nel primi anni ha detto la sua ora però salterei per un attimo Camere perché poi vorrei che lui commentasse un po' le riflessioni che hanno fatto le risposte ai dieci le risposte ai dieci tu quello aspetta passo ad un volpone della politica che Andrea Di Lucente che lui sornione sornione spera di voler sta puntando a creare un centro che sia moderato ma anche competitivo all'interno del centro leggo le interviste ogni mattina di ognuno ecco quindi ma Di Lucente si sente corre voce rumors che lei ormai è parte integrante dell'Udc è così o non è così ma guarda io non sono parte integrante dell'Udc in questo momento sto ancora con i popolari quindi non non sto pensando al momento nessun cambio le dichiarazioni fatte sui giornali e questa da parte mia da parte di Micone ma la stessa dichiarazione fatta da Gianluca stasera quella di andare tutti verso il centro che è la nostra collocazione naturale è venuta fuori anche da alcune dichiarazioni fatte fatte dai tre partiti nazionali di centro-destra che hanno lanciato l'OPA sulla prossima candidatura non solo quella del presidente ma anche quella della Camera e quella del Senato dove tranquillamente l'Onorevole Tartaglione ha detto che queste candidature verranno fuori dall'incontro dei tre partiti romani quindi Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia escludendo tranquillamente quella che è una forza importante qui in Molise formata dal centro dai movimenti civici dai partiti che hanno partecipato alle scorse regionali come i Popolari come l'Udc come Orgoglio Orgoglio Molise quel gruppo di persone che quotidianamente è vicino alla gente è vicino ai sindaci e che sta portando risultati anche a livello amministrativo perché se andiamo a vedere quelli che sono i risultati delle comunali sia di Campobasso che di Sernia o se andiamo a vedere i risultati delle provinciali sia di Campobasso che su Isernia il polo di centro è stato quello che è riuscito ad avere più consensi rispetto a quelli che sono i partiti di centrodestra se pensiamo che a Isernia la Lega non è riuscita a chiudere la lista e non è riuscita a fare leggere neanche un rappresentante Fratelli d'Italia ha spaccato il centrodestra con la candidatura di Tedeschi e oggi vogliamo parlare di centrodestra e di coalizione dobbiamo parlare su quello che è stato fatto cioè su le macerie che alcuni leader regionali hanno fatto del centrodestra ma in questo momento lei si sente così sicuro perché se da uno sguardo all'emiciclo politico del Consiglio regionale vede il centro il gruppo maggiormente rappresentativo perché io cito dei nomi ma so Cefaratti Dilucente Niro lo stesso Cotugno che ha rotto che ha rotto proprio completamente con suo cognato Aldo Patriciello ma c'è anche la la Calenda ma anche lo stesso di Baggio che è nella 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 sfera di Forza Italia però lui vede un po' più il centro come sua collocazione però la strada è aperta la Calenda se mi fate qualche altro nome di esponente del centro potete anche aiutare chi c'è? Alcone lo stesso Presidente del Consiglio quindi è un gruppo abbastanza rappresentativo però bisognerà poi naturalmente suddividere tutti questi esponenti politici in alcune liste perché sarebbe impensabile che tutti possano far parte di uno stesso raggruppamento perché rischierebbero molti di rimanere fuori dal prossimo Consiglio regionale studiare anche queste strategie perché credo che voi sono persone intelligenti quindi queste cose le sapete meglio di me sono solo strategie per essere eletti quello è il punto sicuramente io posso parlare dei 3-4 colleghi con cui ne abbiamo parlato che sono Micone sono De Gidio Niro lo stesso Gianluca dove si è parlato di quella che è la forza di centro quella che è la forza del centro che c'è stata sempre in Molise cioè non è che scopriamo oggi la forza centrista la forza centrista è stata l'anima di tante amministrazioni regionali da quella di Iorio anche parte di quella di quella frattura e oggi è una forza importante all'interno della coalizione di Toma solo che c'è stata l'ingerenza dei partiti sulla questione ognuno di noi va lì per amministrare non penso che si vuole per forza essere eletti perché noi veniamo la stragrande maggioranza delle persone che stanno al centro si andiamo a vedere che sono tutti ex amministratori tutti ex sindaci sono tutte persone che hanno fatto la trafila hanno fatto la trafila dai comuni hanno fatto la trafila dalle province e sono arrivati in regione non siamo gli eletti di turno perché nel momento storico c'era il movimento che esaltava le persone venute dal nulla Gianluca ha fatto il sindaco io ho fatto il sindaco De Gidio ha fatto il sindaco Micone ha fatto il sindaco siamo stati in provincia la stragrande maggioranza di noi io in provincia di Sernia gli altri in provincia di Campobasso quindi la nostra gavetta la nostra scuola di amministratori l'abbiamo fatta non stiamo qui per essere eletti allora io la faccio perché è un ragazzo simpatico e naturalmente ho notato che di lucente l'ha un po' pizzicata stimolata però brevemente perché no vabbè sulla non mi dilungo sulle esperienze che uno ha io vengo dal mondo civico dell'associazionismo basta leggere gli anni passati in quel settore per avere un po' più di contezza di cosa si parla quello che invece rilevo dal punto di vista politico rilevando tutti questi malumori che io definisco mal di pancia d'orologeria perché nei primi quattro anni di legislatura erano tutti quanti allineati e coperti vedo che adesso ad un anno dall'inizio ad un anno dal voto vi dovete però far parlare perché io non vi ho interrotto in maniera molto educata vi chiedo la stessa cosa vedo che questi mal di pancia escono in maniera sistematica ad un anno dal voto è evidente che si sta cercando di prendere le distanze dal presidente Toma e dalla sua azione fallimentare cercando di un ricollocamento legittimo saranno poi gli elettori a premiare o meno questi riposizionamenti però io vedo che questo let motive ce lo portiamo da 30 anni a questa parte ad ogni elezione ed è invece proprio questo quello che vogliamo noi combattere noi abbiamo posto tornando a quelle condizioni una condizione al tavolo dell'alleanza progressista chiamiamola così non non saremo disposti ad accettare transfughi non saremo disposti ad accettare quelle posizioni quelle persone che è evidente perché il sindaco l'ex sindaco Cameli diceva una cosa che dobbiamo governare non dobbiamo essere eletti solo per essere eletti ma questa non è una politica d'ororoggeria secondo me perché ho visto che lei ha dissentito assolutamente no insomma se poi parliamo di ricollocamento credo che più del ricollocamento per il quale state facendo voi tutti gli atti con il PT che fino a qualche tempo fa erano quelli con cui assolutamente non ci si poteva stare insieme beh ricollocamento mi sembra che sia più una questione del Movimento 5 Stelle uno può rivedere le posizioni politiche io mi riferisco ai singoli sono questi ricollocamenti dei singoli poi la posizione politica io dicevo prima che noi siamo maturati rispetto alla noi siamo nati come movimento di protesta poi ci siamo cimentati vi state ricollocando nel panorama politico non è una questione è una questione di maturazione perché guarda rimanere governare e rimanere fedeli alle posizioni oltransiste che avevamo all'inizio è paradossale andrebbe eletto come invece un percorso che stiamo facendo io mi riferisco ed è legittimo perché fin quanto c'è una ricollocazione in termini politiche ma nemmeno ricollocazione diciamo una definizione più chiara della linea politica ci sta è legittimo io invece contesto i riposizionamenti delle singole persone non dei partiti perché qui parliamo di persone e non mi riferisco di certe presenti oggi in questo studio ma di persone che puntualmente ad ogni elezione si trovano dove gli conviene di più a destra al centro a sinistra guardano dove tira il vento e lì si vanno a buttare non mi riferisco a voi ma non potete negare che in questa regione c'è gente che da almeno 20 anni sta sempre nelle maggioranze di governo io stavo dicendo insomma che se guardiamo il Parlamento politico nazionale degli ultimi anni francamente lo deve riconoscere Angelo che se c'è stato un partito chiamiamolo partito che poi si è da un movimento ma insomma non è il nome che cambia la sostanza che ha vissuto ricollocamenti di continuo siete voi non lo devo ricordare io non lo devo ricordare io che a inizio legislatura nazionale avete fatto un apparentamento con la Lega dopo siete dall'apparentamento con la Lega siete andati verso il Conte primo governo Conte con il Partito Democratico adesso c'è una situazione in cui quasi tutti si sta insieme fatta eccezione però sei troppo onesto intellettualmente per omettere sei troppo onesto intellettualmente per omettere di far riferimento alle regole di ingaggio parlare le regole di ingaggio appunto vi siete accomodati lì dove faceva non si governa col 30% in Italia allora vi siete accomodati dove vi faceva più comodo a mantenere la gestione del potere a livello nazionale io non riconosco che nello scenario politico locale c'è stato qualcuno che ha avuto dei collocamenti una volta da una parte una volta dall'altra però voi non potete farvene meraviglia di una situazione che avete adottato negli ultimi 4 anni anche voi poi se vogliamo essere onesti lo diciamo se vogliamo dire il contrario diciamolo pure io credo che io come tanti altri non abbiamo bisogno davvero di uno svenderci al primo offerente almeno per quanto mi riguarda voglio ricordare a tutti anche a voi che io avevo partecipato a un'altra competizione elettorale regionale nel 2013 facendo una scelta molto difficile attraverso delle liste civiche abbiamo ottenuto io ho ottenuto un risultato personale che mi ha soddisfatto dal punto di vista numerico ma che non mi ha permesso di entrare in consiglio regionale e nel 2018 ho fatto una scelta che era coerente in qualche maniera con il mio passato politico non essendoci collocazioni differenti c'erano tre collocazioni possibili Movimento 5 Stelle Centrosinistra e Centrodestra mi sono ritrovato all'interno della coalizione Centrodestra ma io non mi snaturerò mai ho già detto che il mio prossimo candidato al di là che io sia candidato meno dovrà avere delle caratteristiche particolari da cui non prescindo perché la mia prima esperienza politica in regione non è stata soddisfacente probabilmente cercavo altro l'ho detto si poteva fare meglio per cui la mia prima cosa che andrò a vedere è chi sarà il candidato alla carica di Presidente dell'Aggiunta per me è fondamentale poi i compagni di viaggio possono essere belli brutti alla fine il cittadino che fortunatamente nel segreto dell'urna elettorale va a votare per Cefaratti per Primiani per Camele e per altri posso fare una considerazione prima di dare la parola a Camele Camele lo sa bene perché entrambi forse apparteniamo alla Sotosfera alla Prima Repubblica quando erano i candidati alla presidenza di un ente venivano decisi da tanti fattori quando c'erano i partiti insomma ecco diciamo c'è nel pentapartito dove però c'era un 50-60% che era appannaggio della democrazia cristiana poi gli altri 40-50% se lo dividivano gli altri partiti compreso poi il partito comunista di allora che era all'opposizione ma c'era il partito liberale socialdemocratici il partito repubblicano il partito socialista che faceva parte del pentapartito ricordo bene che quando si doveva scegliere un presidente della regione ricordo i nomi che allora erano in voga erano giustino duva oppure poi paolo nuvoli poi colà giovanni lo stesso da immo beh si faceva un discorso chiaro e semplice all'interno delle segreterie dei partiti si lavorava sodo per trovare la quadra sul anche se la democrazia cristiana diciamo poi sceglieva sempre lei il suo candidato perché era quello che vinceva gli aspettava gli aspettava di diritto insomma però c'erano delle logiche gerarchiche a quei tempi controllare i miei pensieri insomma gli aspettava gli aspettava certo perché lei apparteneva alla socialdemocrazia per cui diciamo 75 i voti ci venivano io non ho fatto mai campagna elettorale colleghi e amministratori non ho fatto mai una campagna elettorale sono stato sempre nel mio comune la gente andava a votare e io mi ritrovo elettori e in provincia sette legislature non ho fatto mai campagna elettorale però il 75 la prima volta che mi candidai stavo a Roma per riempire una lista e fui eletto e da lì poi sono cambiati tutti i flussi politici che cosa è cambiato dalla prima alla terza repubblica a Camere? l'88 è cambiato tutto 1988 su un giornale che tu io custodisco tutto tu ho trovato una fotografia di ieri con Gianni Letta tu parlavi di Letta prima quella era Gianni Letta dove i signori democristiani il signor democristiano firma l'adesione a Forza Italia io dissi alla mia segreteria perché questo non proverebbe neanche il padre a te entrano qua al mio muoio ho detto a mia moglie che me lo deve mettere pure nella cassa perché quando Berlusconi facciamo il primo congresso a Milano no no Andrea perché è una coerenza quando Gianni Letta si presentarono sette o otto personaggi a firmare l'adesione a Forza Italia io disse alla segreteria non a Berlusconi che è ragione ci aveva da pensare a altre cose è la fine della Forza Italia guarda la cosa eccola qua è un'apparenza e non me la voglio ecco però mi rispondo a questa domanda che cosa è cambiata dalla politica di una volta a oggi che ognuno ha cavoli su questo è il problema dico sbaglio allora quello Andrea per far sì che il navigatore o il comandante di una nave in mezzo a Noceano in Tempesta che si chiama Tomas Tom io rispetto come istituzione come persona come rispetto a tutti quanti voi bisogna avere il coraggio di dire che cosa gli andiamo a chiedere noi ai cittadini dobbiamo andare di nuovo Cefaratta Delucente o Primiano o Pasquale o Cagnolo cioè perché dobbiamo ci diranno questo significa perdere ma non volete vincere vogliamo vincere che io lì sto collocato non si discute a me una volta mi chiamarono per riempire la lista della Forza Italia la prima lista della Forza Italia io ero quella che firmava Andrea firmava tutte le autentiche compresa la Fanella l'autentica della firma per la lista della Forza Italia cioè detto questo che è successo? è una realtà è una realtà e allora al momento la mia proposta che faccia ma magari pure a Primiani è un ragazzo che merita a Primiani facciamo una cosa 22 sono i candidati 22 sono i candidati 21 20 e più il presidente 21 lasciamo che questo comandante in mezzo all'oceano con la nave continui ad andare avanti se poi va vicino agli scogli e in altri scogli però tutti quanti vogliono una lista unica sia di centro di sinistra e del padre eterno tutti quanti vogliono uscendo in un'unica lista come fatti il Movimento 5 Stelle l'altra volta allora tutti contro 5 Stelle lì non è questione di misurarsi o non misurarsi devi dire abbiamo fatto male abbiamo fatto bene dobbiamo fare di più mettiamoci insieme andiamo avanti a portare questa nave in porto questo è il mio pensiero il pensiero è altissimo il problema è che noi abbiamo per lo stesso problema abbiamo diverse visioni e diversi approcci di come giungere alla soluzione come possiamo poi sono legittime tutte e due le visioni però sono contrapposte come possiamo metterci insieme se pensiamo di raggiungere quell'obiettivo in due modi diversi io penso che l'alternanza sia salutare per la democrazia sempre due list opposizione maggioranza io dico l'ordine della maggioranza io dico l'ordine della maggioranza il mio è stato un invito tra virgolette era una battuta era una battuta era una battuta a te Primiano volevo dire una cosa solo su 5 Stelle che cosa ha prodotto il vostro partito nella regione molise è sparita l'area di crisi correggete se sbaglio è sparito il CIS tu immagina un po' andiamo a firmare tutti quanti in prefettura per i finanziamenti si hanno evocato a loro da Roma a Palt e tutto quanto sono quattro hanno a Toro Campanario ancora non parte ma hai cambiato il governo no non è secondario io sono andato a Roma più a Campania a firmare con Arcuri e Presidente allora Presidente del Consiglio per il progetto oggi non c'è né più Arcuri né più Conte che significa? gli altri vanno avanti io non sono più sindaco li ho lasciati a me Arcuri c'è in Italia il problema è che noi avevamo io faccio questo ragionamento anche sulle politiche che abbiamo proposto noi noi stiamo facendo una lotta per il super bonus 110% che pure stanno cercando di stanno cercando di neutralizzare come si può pensare il CIS io sono d'accordo il problema che hanno voluto abbattere un governo che si era formato e stava cercando di fare qualcosa oggi c'è un governo di tutti o un governo di uno io forse sono più per la seconda ipotesi è chiaro spariscono i fondi del CIS si cerca di smantellare il super bonus i programmi sono programmi è bello mio senti a me ma non governiamo più da soli governiamo anche con Forza Italia oggi il paradosso più grande quello che mi fa piacere notare in questa trasmissione che non prevale l'insulto rispetto alla no non esiste perché è una scorciatoia che allunga la strada quindi mi fa piacere che in questa trasmissione ci sia sempre il massimo rispetto per tutti perché poi il totoscritto dà la parola a tutti come mi accorgo che c'è una frecciatina perché dilucente è abile nel lanciare le frecciatine io do subito la parola me ne sono accorta me ne sono accorta anche che la tua conduzione è molto 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 impegnativa e molto educata tra l'altro allora vedete che cosa ho fatto io con Modesto Sindico da quando entrai il primo giorno tutte le opere realizzate nel mio comune e quelle finanziate io non faccio più il sindico per la mia decisione però queste opere vanno avanti quelle che stanno ancora sono finiti tutti conoscono la sua statura politica Camere però un'ultima domanda gliela volevo fare lei una volta disse e lo ricordo molto bene sono pronto a cogliere Berlusconi se compra casa a Bagnolo di El Trigno ma questo penzerino ce l'ha fatto è pronto poveretto sei ammalato riammalato comunque la casa sta lì se non fosse successo tutto questo quando sarebbe stato di nuovo ma sarà ospite appena si guarisce non mi preoccupate allora voglio tornare un po' alla politica concluda perché siamo proprio prolunga la trasmissione prolunga la trasmissione allora sulle strade ne abbiamo parlato sulla società ne abbiamo voglio parlare l'ultimo possibile di parlare sulla strada che a lei sta più a cuore collegamento vi apre vi apre la strada tu hai immaginato un po' si parla della fresiglia uno parla a destra uno a sinistra uno fa articoli a non venire però nessuno di loro io ce l'ho tutto quanto è facile da quando firmai il contratto e la regione l'appalto ce l'ho in cartella se casomai quando dico non credete all'insaputo del comune di Bagnolo quando l'allora presidente della provincia Chieffo veniva da me a pregarmi di lasciare la congestione di rischio per la congiungente Fondo Valle Verrino che io consigliere assessore della provincia ho approvato il progetto e abbiamo realizzato la Fondo Valle Verrino dove dovevo proseguire con tre chilometri alla congiungente della Fossa Altina immagino che la conoscete a me la Fossa Altina l'avete fatto qualche volta a Bagnolo non ci fate venire che la strada è tutta veniamo pure a Bagnolo vi invito pure a pranzo pure a domani non è un problema allora vi voglio dire una volta che fu realizzata realizzata questa strada questo progetto con la congestione di rischio finanziato 30 miliardi di vecchi lire si scadano il putiferio di alcuni comuni in provincia di Senna capofile Civitanova Dessagna Civitanova Dessagna che fece chiamò tutti i sindaci l'unica amministrazione di sinistra che è stata in provincia da 95 4 anni Pellegrino tutti i sindaci si schierarono tutto appresso a Pellegrino e si chiamarono tutti i miei feci del tipo del consiglio comunale che ce l'ha detto uno compresa Caruvilli Chiauci Pietro Abbondante Pescolangiano che c'è a secco l'Atrignini ce l'avevano a due passi lo stesso Agnone hanno fatto Poggio Sannino e hanno fatto una riunione a Civitanova Angelo Angelo Cefaratti Poggio Sanninova Gianluca 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 di Angeli ce ne siede due un terzo non c'è in questa stanza hanno invitati tutti i sindaci nella riunione hanno firmato l'adesione infatti un giornale fece un articolo che ce l'ho l'ha detto tutti i sindaci dell'Atrignini contraria alla fresiglia lungo l'Atrignini tutti invitati come se il sindaco di Bagnolo che ero io non erano interessati al problema tutti invitati c'erano degli inviti tranne Bagnolo e Trinini e Duronia e Duronia cioè la politica non è questa caro primi anni la politica è cosa deve fare la politica lasciamo la se stessa che il cittadino ci guarda io dico allora volevo non riabitare che non hanno bisogno di riabitazione perché allora il successo se ne sono create se lo mantengono però queste scene Andrea dimissioni non dimissioni se mi fai assessore non mi dimetto approvo o non approvo non è questo il bene io ho avuto in questi anni in Comune in Consiglio Comunale tutti i cittadini perché prima di fare la lista che non l'ho mai fatta io l'hanno fatta le persone sagge destra sinistra tutti quanti non ho avuto nessun problema nella bellezza di 30 anni mai bene così ha parlato Angelo Camere classe 1980 40 1980 diciamo dai su siamo 40 che mi interessa giovanotto di belle speranze allora io una risposta ai partiti noi ai partiti la devo dare brevemente dai che siamo proprio puoi prolungare qualche minuto i partiti io ho fatto parte sì ancora fin quando non si fa un altro congresso ancora il Consiglio Nazionale da quanto tempo non si fa un congresso? dall'88 in Molise non si è mai fatto non lo so io l'ho fatto quando ero coordinatore regionale io l'ho fatto quando eri tu? non so da quanti anni non si fa un congresso? ma in nessun partito però c'è di fatto una cosa Andrea che quando tutti con quel simbolo sono stati eletti e mi hanno lasciato qui a Campobasso da pari tutti quanti i debiti che hanno fatto con le mega riunioni dove tutti quanti voi ci stavate all'albergo questo centro un palazzo trovavi tutte le fatture da pagare il fitto della sede dove stava regionale l'ho pagato io mi sono ricordato come nel 1977 77 dovete pagare tutti i debiti dei partiti sociali ai partiti ora che consiglio per concludere Canele? l'ho detto prima lo ribadesco a tutti quanti loro per dare una risposta ai cittadini perché dobbiamo votare queste cinque anni fa dove tutti criticano per prima il presidente e poi tutto il resto che cosa ci hanno fatto cosa hanno fatto che cosa la gente questo ci chiede Andrea questo ci chiede tu per venire a Campobasso che strada fai? allora la vasso a Girardi io la faccio lunga la vasso a Girardi si scende alla Trignina a Isernia e poi veniamo qui a Campobasso la fai lunga ma tre consiglieri assessori dell'Alto Molise non sono mai passati dentro il centro abitato a prendere un caffè con la gente hanno fatto la variante esterna che io la feci quando ero assessore della provincia tanti anni fa mai passati al centro abitato a prendere un caffè se questi sono gli amministratori dicono i miei cittadini ma per chi dobbiamo votare? e chi erano gli assessori? quelli di Agnone sono assenti ho chiesto non faccio no non sono mai passati al centro abitato a prendere un rispetto degli assenti quando si andava a cercare il voto alla gente e la gente dice ma tu sei matto io voto a Camere c'è Faratti un'ultima considerazione poi chiudiamo veramente i consigli di Camere sono sempre buoni insomma credo che essere recepiti da voi che avete diciamo modo di confrontarvi con gli elettori a presto quindi questi consigli serviranno oppure ma i consigli di una persona che innanzitutto è fedele al proprio partito è bloccato i piani ambientali no i piani ambientali dall'83 siamo arrivati al 2000 certo che l'ambientale sono subentrate dopo le famose aree sick facciamo concludere dicevo i consigli di una persona che è fedele ad una bandiera in questo caso di Forza Italia dal 1993 di una persona che ha fatto per sette mandati l'amministratore provinciale per sei mandati l'amministratore comunale ma devono essere assolutamente preziosi per cui presi assolutamente nella loro interezza io ho avuto sempre stima di Angelo Camele insomma ho avuto modo di confrontarmi io non sono candidato per l'amore di Dio ho avuto sempre modo di confrontarmi con qualche suo cittadino so quel che ha fatto per il suo territorio per i suoi paesani so quel che ha fatto per la provincia di Sernia per il Morise per cui atto e merito a chi come lui può darci sempre degli ottimi insegnamenti ti ringrazio ultima considerazione con Primiani la voce dell'esperienza a volte serve per qualcosa io magari possiamo essere in disaccordo su delle questioni politiche ma starei ore ad ascoltarlo perché io penso che gente di così tanta esperienza può solo dare a questa terra e ai noi anche se dice Andrea Otti quando venne a Isernia e lui è testimone Angelo nelle istituzioni deve essere l'ultimo a parlare di fatto io ho dieci anni in consiglio provinciale di opposizione ho del maggiorato non ho mai parlato Di Lucente lei conosce bene diciamo tutta la zona di Bagnoli Chiauci Pescolanciano Carovilli tutti i sindici di sinistra erano allora comunque qualcosa con Angelo siamo stati insieme in provincia io ero un giovane e lui era tra lui e la calenda me l'hanno combinato di 101 tra lui e la calenda guarda io sono stato cacciato fuori ancora oggi non sono mai entrato in consiglio lui fu estromesso per far posto a calenda te lo ricordi io non ho mai fatto il primo giorno di assessore non sono neanche entrato in aula io in ginocchio mi pregavano a coprire quelli che erano cacciati via dico no non mi vado mai a sostituire allora concluiamo con di Vicente oggi prima di venire abbiamo fatto la riunione di capi gruppo e c'era l'ex presidente Iorio gli ho detto che andavamo in televisione noi tre gli ho detto con Camela Camela da quanto tempo non lo vedo ma gli vuoti gli ho dato ha detto ma come vai viene ho detto perché forse è l'unico di Forza Italia che realmente ci crede anzi è Berluscoliano nell'anima non dimenticate una cosa le case ripose sono dimenticate nella foca non vi dimenticate cioè le case ripose per il distanziamento che ci hanno detto ci hanno imposto per il covid c'è due progetti la riflessione per concludere di quello che ci ha detto Angelo è che alla base di tutto ci deve essere il contatto diretto tra la politica e il cittadino quello che non deve mancare è la frequentazione quotidiana dei nostri centri dei nostri piccoli centri perché la politica non è solo Campobasso i Serni e Termoli ma sono tutti e 136 comuni del Molise in particolare le aree interne che hanno bisogno della vicinanza di ognuno di noi Andrea fa una mea colpa insomma io vorrei con un appello che lancia tutti credendo di interpretare anche il pensiero dei graditi ospiti qui come questa sera l'Italia ha abbandonato la fase pandemica ed è entrata in quella endemica siamo favorevoli alla cessazione delle restrizioni purché però si usi il buonsenso la responsabilità deve tornare in capo ad ognuno di noi bene io vi ringrazio Gianluca Cefaratti Angelo Primiani Angelo Camele e Andrea Di Lucente per il contributo che hanno dato a questa puntata di Conto la Rovescia che torna la prossima settimana alla stessa ora siamo al venerdì santo la prossima settimana cercheremo di catapultarci verso i riti della Santa Pasqua linea alla pubblicità dopo il Tg della notte grazie per essere stati con noi a voi tutti una cordiale buona serata grazie per aver guardato